E' terminata la seconda serata di selezioni per la nuova rappresentativa regionale giovanissimi della Lombardia, è qua con noi Nicolò Cardinali del San Carlo Calcio 5 mentre vediamo le fasi di allenamento e chiediamogli un commento su come è andata la sua serata. E' stato un buon allenamento, molto intenso, ma mi sembra che abbia lavorato bene. L'allenatore ci ha aiutato molti, ci ha fatto lavorare tanto, ma abbiamo lavorato abbastanza bene e speriamo che ci faremmo bene la prossima. Grazie Nicolò per l'intervista e ci vediamo alle prossime partite. Grazie Ivan, ciao, Forza Lombardia! Ed ora siamo con Pietro Bertini del Cometa Calcio 5, mentre continuiamo a vedere le azioni e le fasi di allenamento anche lui chiediamo un commento su questa sua serata. Ma è stata una serata molto divertente e istruttiva, la quale penso di aver appreso molto, il mister era molto bravo e speriamo di esserci la prossima volta per rappresentare questa bella squadra nel torneo delle regioni. Grazie Pietro per l'intervista, ci vediamo alle prossime partite. Grazie a te Ivan e Forza Cometa! Grazie a te Ivan e Forza Cometa!